Salve a tutti! Oggi vi propongo un nuovo video di cosa mangio in un giorno. Per colazione ho bevuto un tè. Che ho dolcificato con del miele rigoni e accompagnato con dei frullini. Passiamo al pranzo. Ho bollito dell'acqua aromatizzato con della curcuma e ho cotto dei fusilli integrali che ho condito con il misto di verdure. E' completato con del formaggio grattugiato. Se vi interessa la preparazione delle verdure, potete cliccare in alto e trovare il video. Per secondo ho preparato l'uovo in camicia. Ho bollito l'acqua. Ho versato l'uovo. E ho fatto bollire per qualche minuto. A presto! Per cena mi sono cimentata in una nuova ricetta, i pancakes salati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ho assemblato tutti gli ingredienti. Ho cotto in padella oleata con il solito metodo di cottura dei pancakes. Grazie a tutti. Gli ho girati appena si sono formate le bollicine. Grazie a tutti. A cottura ultimata ho farcito con formaggio morbido, prosciutto e pomodorini. Grazie a tutti. Grazie per aver guardato il video. Mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciatemi un like.